Un cordiale buongiorno e ben ritrovati da Benedetta Pisano e da tutta la redazione di Radio Speranza. Oggi è giovedì 22 agosto e la Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine Maria Regina. E' arrivata ieri la sentenza da un tribunale del Cairo che condanna il pescarese Giacomo Passeri, detenuto in Egitto ormai da un anno, per possesso di droga all'ergastolo. Dopo aver preso della sentenza shock dell'ergastolo con 25 anni da scontare, tornano ad intervenire sulla vicenda il deputato AVS Marco Grimaldi e il segretario regionale sinistra italiana Abruzzo Daniele Liccheri, chiedendo l'immediato intervento del governo italiano. Abbiamo visto la vicenda Reggeni e la vicenda Zaki, non ci fidavamo di chi diceva che in Egitto andava tutto bene. E' stato detenuto senza traduttori, sottoposto a un interrogatorio senza avvocati. Non c'è bisogno di sapere di che cosa Luigi Giacomo Passeri sia stato accusato. Il ragazzo era stato trovato in possesso di una piccola quantità di marijuana, per cui, secondo Grimaldi e Liccheri, sarebbe eccessiva la sentenza del tribunale egiziano, oltre a contestare le condizioni in cui il giovane è detenuto ormai da un anno. Da parte sua, il governo in una nota rende chiaro di seguire la vicenda con la massima attenzione. L'export made in Abruzzo continua a crescere e in nessun'altra regione vengono segnalate performance positive come la nostra. Così, l'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha commentato il report del primo trimestre del 2024, elaborato dal Research Department di Intesa San Paolo, che ha interessato le filiere produttive dei cinque distretti regionali, messi sotto l'attenta lente di ingrandimento dell'Istituto Bancario. Nei primi tre mesi di quest'anno, le esportazioni abruzzesi hanno registrato esportazioni a doppia cifra, per la precisione un 13,8% in più, mentre gli altri distretti italiani arretrano. L'Abruzzo si distingue a livello nazionale. Una buona notizia per la nostra economia, rimarca l'assessore Magnacca, e deve essere colta come un ulteriore sprone a fare meglio. I settori con il vento in poppa, che spingono l'economia abruzzese, divenenziati da questo report, sono principalmente l'alimentare, l'abbigliamento, il tessile e il mobilio. Resta però la viva preoccupazione per il settore dell'automotive, che risente invece degli umori del mercato e delle scelte condizionate e dettate dall'Europa e da politiche industriali extracontinentali. Sono più di 400 gli iscritti ai campionati italiani di Coastal Beach Sprint che si terranno a Pescara da domani fino a domenica su iniziativa del Circolo Canottieri, la Pescara presieduto da Umberto di Buonaventura, nell'ambito delle iniziative per il centenario del Circolo stesso. La presentazione ieri in comune alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell'assessore allo sport Patrizia Martelli, che ha collaborato alla realizzazione dei campionati, della consigliera nazionale della Federazione Italiana Canottaggio Luciana Reale e di Alessandra Berghella, vicepresidente del CONI. Tra gli atleti presenti, provenienti da tutta Italia, anche alcuni partecipanti alle recenti Olimpiadi di Parigi. Questa disciplina è entrata tra gli sport olimpici dei prossimi giochi in programma a Los Angeles nel 2028. Spiccano tra chi gareggerà a Pescara e questo fine settimana i nomi di Giovanni Ficarra, Lucio Fugazzotto, Maria Lanciano, Vincenzo Abagnale e ha sottolineato così Berghella, mettendo in evidenza che proprio sabato in città arriverà anche il presidente della Federazione Nazionale Canottaggio, Giuseppe Abagnale. Sarà un appuntamento molto popolato, ha commentato, con numeri che parlano già di un successo grazie al lavoro del circolo Canottieri e del Comune. Il tricolore di Beach Sprint prenderà vita sulla spiaggia prospicente e l'Arena del Mare e le finali, in programma proprio per domenica, saranno trasmesse anche in diretta su Rai Sport a partire dalle 9.15. Non si arresta il fronte del No sabato 24 agosto, un incontro pubblico per ribadire la contrarietà del progetto Enel. A ridosso della data entro cui Enel dovrà depositare le integrazioni al progetto Pizzone 2, il coordinamento No Pizzone 2 si riunirà in assemblea in piazza Umberto I di Castel San Vincenzo. Alle ore 15 l'assemblea sarà preceduta dall'illustrazione e dell'analisi del devastante impatto che l'opera avrebbe su un ambiente ed economia del territorio. Ragioneremo anche sul perché le modifiche del progetto originario non risolveranno nessuna delle cause che ne hanno determinato la sospensione, così entrano nel merito proprio dal coordinamento No Pizzone 2 e ancora alle 16 inizierà l'assemblea uno spazio di discussione per chiunque voglia dire la sua su una vicenda decisiva per il destino dei nostri territori. In particolare ci si confronterà sulle modalità di prosecuzione della lotta. Il 31 agosto infatti è la scadenza che il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva concesso all'Enel e dentro la quale proprio l'Enel dovrà depositare le integrazioni al progetto. L'incontro di sabato è aperto a tutti. La Compagnia del Mare in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento Pescara informa che sabato 24 agosto presso il Lido Accapulco di Pescara e domenica 25 agosto presso il Lido Trocadero di Montisilvano a partire dalle ore 15.30 si svolgerà la ventiduesima edizione della manifestazione Papatti Salvo Io presentata dal presidente Cristian Di Santo e rivolta a tutti i bambini e non che frequentano le spiagge del litorale abruzzese. Tale iniziativa realizzata con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti coinvolge centinaia di bambini e si propone di attirare la loro attenzione facendogli acquisire quelle enorme e buone pratiche di comportamento basilari prima di immergersi in mare che potranno aiutarli ad evitare i pericoli ed apprendere le tecniche per affrontare al meglio eventuali difficoltà in acqua. Saranno così presenti il personale ed i mezzi delle Capitanerie di Porto di Pescara, la SIX, Scuola Italiana Cani di Salvataggio, e il personale abilitato ai recuperi in mare, i vigili del fuoco e la sezione volo. Durante la manifestazione si alterneranno diverse dimostrazioni di salvataggio con l'ausilio di uomini e mezzi e non solo. Al termine dell'evento ogni bambino partecipante riceverà il diploma di Baby Watch. Nell'appuntamento odierno del John Fante Festival, il maestro orafo Giuliano Montaldi svelerà la sua ultima creazione. L'estate italiana brilla di eventi dedicati agli italiani all'estero e ai loro discendenti, unendo radici e tradizioni attraverso l'arte e la cultura. In questo contesto emerge il gioiello del ritorno, l'ultima straordinaria creazione del maestro orafo marsicano Giuliano Montaldi. Questo prezioso ciondolo, concepito in omaggio ai milioni di connazionali che hanno lasciato l'Italia in cerca di una nuova vita, sarà presentato proprio questo pomeriggio alle 17.30 al prestigioso John Fante Festival Il Dio di Mio Padre, che inaugura la sua diciannovesima edizione a Torricella Pelligna, in provincia di Chieti. L'evento si aprirà con un momento speciale. Montaldi donerà il ciondolo ai figli dello scrittore italo-americano John Fante, Victoria e Jim, giunti proprio da oltreoceano per celebrare le loro radici abruzzesi. Il gioiello del ritorno rappresenta una piccola valigetta, simbolo dei tanti viaggi intrapresi dagli italiani nel mondo. Realizzato in argento oppure oro, porta incisi i nomi delle principali città nordamericane che hanno accolto i nostri emigranti. Questo ciondolo fa parte della collezione I Love Abruzzo una serie di 40 pendenti ispirati alle meraviglie e alle tradizioni dell'Abruzzo come l'orso marsicano, il trabocco, l'arrosticino, il gran sasso e molti altri simboli iconici. E ora in chiusura passiamo alle previsioni del tempo. Sui litorali e sulle zone subappendiniche il tempo sarà prevalentemente variabile con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Anche sui masticci centrali la prevalenza è di nubi sparse alternate a schiarite. Sull'appendino occidentale invece i cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione, venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali e mare da mosso a comosso. E con i dati meteorologici noi ci salutiamo. Buona giornata!